... Abbiamo voluto dimostrare quello che potrebbe succedere fra qualche giorno se tutti decidono di farci chiudere di nuovo. È un lockdown celato quello che già stiamo vivendo ma un'altra situazione come quella di marzo nessuna azienda è in grado di sopportarla. Per cui noi chiediamo assolutamente che, e lo stavamo dicendo già da due e tre settimane fa, che era meglio chiudere in quel momento ma non arrivare adesso alle soglie del Natale dove tutte le campagne oramai sono già state avviate ma sono tutte compromesse. E chiediamo un abbattimento totale, un blocco totale dei pagamenti delle tasse e un azzeramento perché con questi parametri di incasso noi non arriviamo da nessuna parte. È una città senza commercio, è una città spenta, è una città morta. Per cui quello che chiediamo è un sostegno reale all'economia, quella che vediamo quotidianamente qui sui nostri marciapiedi ma soprattutto per le nostre aziende e per le persone che collaborano con noi, che vanno tutelate. Grazie. Grazie.